Poi occhi! Soltate! Esercienti 08-57 Dini, primo lessificato! Anni Catorino Aili Erika al tavolo della Presidenza Di Carmi Aldeura al tavolo della Presidenza Cosentino e Sabrina al tavolo della Presidenza Campole e Camile al tavolo della Presidenza Tucci in gestina al tavolo della Presidenza del podio che viene a riuscire al tavolo della presidenza a non pensare al tavolo della presidenza il podio che vinci per la 46 giri prima della scesigata del caro Lucia San Sanfotore Peretti da camion 4 del caro Lucia sul terzo le varie e poi a riuscire a me Trani al battito 5 seconda giamata seconda giamata per Trani al tappeto 5 a seconda giamata a seconda giamata seconda giamata ultima giamata per Trani Federico al tappeto 5 ultima giamata tappeto 3 tappeto 3 al tappeto 5 al tappeto 5 al tappeto 5 al tappeto 5 a seconda giamata al tappeto 5 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.